Mi ero già sposato qualche anno fa e non è andata per niente bene. Io ho già avuto una proposta di matrimonio. Dopo tanta sofferenza è arrivato il momento di costruire. Matrimonio a prima vista Italia. La nuova stagione da mercoledì 6 marzo alle 21.20 su Real Time, Canale 31.